Questo non faceva parte del piano È un pirata! Una strega è un pirata nel mio negozio! È il tuo giorno fortunato! Uno di voi quattro ha mica visto la mia banca? Trovata! La vile progenie dei due La mamma non ti ha mai chiesto di me? No Oh, figurati, nessuno invoca il mio nome Non ha mai parlato di voi Sei sicuro che parliamo delle stesse persone? Lui è un maledetto e un uco Lei ha capelli d'oro, testarda, labbra imbronciate, collo di una giraffa e due meravigliose Sì, sì, è lei Allora vi conciuto l'onore di salvarmi? Basta una donazione! Ti aspetti pure che ti paghiamo per salvarti? Sì! Per appena dieci pezzi! Allora, Jack Aspetta, questo non è legale? Non è legale? Ha ragione! Qualcuno qui vuole opporsi a queste nozze? Lo voglio! Congratulazioni! Puoi baciare la sposa! Ti piace il pesce, è vero? Baciami! Scimmio! Grazie! 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 Grazie a tutti.